di cosa parliamo? Parliamo di cassa integrazione, parliamo di aree di crisi industriale complesse della Sicilia, parliamo della zona di Termini Merese, della zona di Gela, perciò due aree che sono state negli ultimi anni ulteriormente penalizzate dalla chiusura di grandi fabbriche, Termini Merese con la Fiat e su Gela il petrolchimico. Pertanto io chiedo e vi chiedo con forza, ho anche inviato una mail a tutti i senatori siciliani e non solo, secondo voi è normale lasciare senza un minimo di sostegno lavoratori che non hanno avuto la possibilità negli ultimi anni di essere ricollocati? La domanda è chiara, vi sentite di avere la responsabilità di non permettere a queste persone di avere un piatto di pasta ogni giorno per loro e i loro familiari? Pertanto vi chiedo e chiedo anche al relatore e al governo di pensare, il sottosegretario che è una siciliana dovrebbe anche capire di cosa stiamo parlando. Pertanto, Presidente, chiedo al governo se può avere un attimo d'attenzione, perciò parliamo di aree di crisi industriale della Sicilia. Pertanto io chiedo il voto favorevole, grazie. Grazie Senatore.